ciao a tutti amici questo è il quarto video riguardo le navi leggendarie anche se penso che lo muterò sempre nel terzo video praticamente adesso andiamo a distruggere la quarta nave leggendaria che ho già provato varie volte la vedo molto perché l'hanno fatta proprio in modo tale che sarà più difficile di tutto perché questa è quella che mi sta trovando più debbretta pronti a ruggire fuoco fuoco pronti al fuoco 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 facciamo subito dacci l'ordine siamo stati bucati non c'è la facciamo anche se io ho un'altra ... 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 voglio tutte le vele siamo pronti c'è l'abbiamo fatta finalmente perfetto oh si perfetto bene se il video vi è piaciuto lasciate un like e registrate il mio canale grazie di tutto amici ciao ciao alla prossima